Il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha consegnato a circa una trentina di migranti minorenni ospitati nelle strutture presenti sul territorio terramano l'opuscolo, le pillole di Costituzione italiana. Iniziativa fortemente voluta dalla Prefettura, dalla Diocesi di Teramo Atri, dalla Caritas, dal Comune di Montorio e dall'Associazione Montedoro, che ha ideato e creato il libretto che spiega i principi fondamentali della principale carta dell'ordinamento italiano per informare e formare i cittadini del domani. È significato importantissimo anche perché i destinatari sono dei migranti, sono dei migranti minori ospitati nei nostri CAS e quindi si tratta di ragazzi o di ragazzini che hanno vissuto, non si sa bene quali vicende personali e familiari che sono ospitati ovviamente da noi e che ovviamente hanno un po' bisogno di tutto, anche di integrarsi. Quindi c'è chi ha qualche problema ancora con la lingua italiana, chi ha problemi con la religione, chi proviene da una cultura molto diversa, ma la Costituzione può essere l'inizio di un percorso, chiamiamola una specie di educazione civica, vista tra l'altro la bellezza della nostra Costituzione, 80 anni dopo, è veramente una base su cui partire per una sempre maggiore integrazione di questi ragazzi. Durante l'evento sono stati evidenziati i valori e l'importanza della Costituzione. L'opuscolo è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Montorio Alvomano ed è stato già donato anche agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Montorio Crognaleto. L'integrazione vuole essere un impegno a riportare la persona al centro e quindi a riumanizzare un po' quella che è la nostra società, cercando di dare delle risposte concrete, quindi di dare un pasto caldo quando magari qualcuno è mancante, di dare un servizio igienico quando appunto non si ha una casa. Purtroppo non riusciamo a soddisfare pienamente i bisogni di chi si trova per strada sempre. Cerchiamo però di parlare sempre con le persone e cercare di trovare insieme a loro delle soluzioni che possono dare dignità e risposta al loro problema.